ciao il mio nome rossella in questo video ti voglio parlare dell'importanza della protezione psichica prima di una sessione di guarigione di riequilibrio energetico o prima di una canalizzazione o lettura con le carte io facilito le connessioni angeliche insegno anche alle persone come connettersi con gli angeli con l'arcangelo michele insegno anche il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e in 15 anni di lavoro di attività ho imparato l'importanza della protezione questo è determinante per poter offrire ai propri clienti un servizio ottimale ma anche per salvaguardare noi stessi da energie di bassa frequenza che possiamo assorbire dagli ambienti o dalle altre persone ok diciamo che lo stesso operatore deve essere nel proprio pieno potere essere libero da energie egoiche di paura appunto che puoi aver creato dentro di te o aver assorbito dall'esterno e anche quando si lavora con più persone contemporaneamente è importante mantenere il canale pulito farò diversi video dove spiegherò i vari passi per diventare o per essere un canale pulito ma in questo video ti voglio parlare nello specifico della protezione la protezione prima di ogni sessione di riequilibrio o di canalizzazione o anche la semplice lettura con le carte che non è una cosa che deve essere fatta così alla leggera non si può passare da un'energia di terza dimensione quindi un'energia caotica un'energia egoica ad esempio io voglio avere una risposta voglio sapere se questa persona è compatibile con me non posso porre questa domanda agli angeli alle carte perché comunque attraverso le carte risponde sempre una coscienza che possa essere il superiore l'animo gli angeli si sta sempre parlando di forze invisibili no o la nostra stessa coscienza che risponde però se io sono in una vibrazione una frequenza egoica di paura o di voler avere a tutti i costi una risposta di un certo tipo o sforzo a qualche livello il risponso di questa risposta o comunque sto influenzando negativamente le risposte autentiche per il semplice fatto che ce l'ego di mezzo e alle volte non solo si possono intromettere delle forze egoiche energetiche esterne anche a noi ok possono essere anche delle forze invisibili che noi non conosciamo anche rivolgendoci agli angeli se noi non chiediamo una protezione può arrivare di tutto e la maggior parte delle persone che fanno le letture non si rendono conto di questo diciamo non è proprio così ho notato che alcuni canali che fanno le letture delle carte hanno espresso proprio il fatto di sentirsi stanchi dopo dopo diverse letture di sentirsi spossati di sentirsi strani di non avere più energia vitale la vita magari che non va più in una linea di gioia di amore di bellezza ma iniziano a cadere anche eventi negativi ma perché questo questo avviene quando non ci si protegge quindi io non vedo allora dal punto di vista mio spirituale io trovo che leggere le carte sia uno strumento divinatorio potentissimo molto utile per aiutarci anche a comprendere in che fase della vita ci troviamo a ricevere dei consigli a ricevere guida ed assistenza in quanto l'energia del presente ci può aiutare a indirizzarci verso un futuro migliore ok parlerò di un del futuro del discorso legato al futuro la previsione del futuro in un altro video ma in questo video voglio proprio marcare il fatto che sia determinante la protezione attraverso la protezione psichica noi e la purificazione energetica noi ci purifichiamo ci liberiamo dall'ego dalla paura dal giudizio nostro e anche da energie esterne a noi che non servono il nostro massimo bene per la protezione psichica l'aiutante spirituale più potente in assoluto è l'arcangelo michele l'arcangelo michele ci protegge l'arcangelo michele ci libera l'arcangelo michele ci purifica e ci radica la terra questo ci consente di fare veramente un lavoro spirituale non egoico è molto importante sia nella lettura angelica con le carte o come connessione diretta quindi una vera e propria canalizzazione o addirittura nelle sessioni di riequilibrio energetico essere appunto dei canali puliti essere integri esseri radicati centrati nel nostro pieno potere questo come operatori olistici è naturalmente anche importante educare i propri clienti ossia le persone che si rivolgono a noi a spiegare che noi facciamo un lavoro di un certo tipo che non facciamo un lavoro tanto per per dire fesserie che poi possono è anche una responsabilità la lettura angelica no leggere le carte o fare delle connessioni dirette una responsabilità nei confronti delle altre persone quindi è importante che noi siamo appunto appunto nell'integrità non che le persone che non si proteggono non siano integre però umanamente parlando è una cosa normale che se non ci si protegge possono arrivare delle risposte in parte esatte magari c'è quel piccolo neo che poi rovina tutta una lettura e questo avviene proprio per mancanza di protezione quindi errori da parte dell'operatore nel portare dei messaggi ma anche ripeto può portare stanchezza fisica malumore sentirsi spossati sentirsi prosciugati sentirsi venire può venire il mal di testa quindi lo stesso operatori olistico può avere dei degli effetti negativi sulla propria vita di tutti i giorni quindi anziché essere un lavoro appagante soddisfacente come quello di dell'operatore olistico può diventare un lavoro faticoso quindi ripeto sia quando si fanno delle letture o delle canalizzazioni ma anche quando si facilita la guarigione nelle altre persone o il riequilibrio energetico possiamo chiamarlo anche in questo modo sia le energie benefiche di guarigione che dovrebbero portare equilibrio armonia e insomma e gioia se non c'è un'adeguata protezione cosa succede puoi assorbire i pesi energetici dei tuoi clienti come operatore che riguardano non solo pensieri negativi emozioni negative ma anche energie di paura di dolore di sofferenza e non solo ci si mettono anche le entità le forme pensiero le gregore in quanto le persone che poi si rivolgono all'operatore olistico magari sono anche sofferenti e quindi possono avere queste forme di energia attaccate nel proprio campo energetico quindi passano dal campo energetico del ricevente al campo energetico dell'operatore olistico e quindi magari il cliente si sentirà subito meglio avrà subito diciamo il riequilibrio riceverà il riequilibrio energetico magari poi l'operatore olistico non non sta bene appunto a mancanza di energia si sente prosciugato magari poi deve lavorare con un altro cliente senza c'è un passaggio energetico di bassa frequenza tra il cliente l'operatore l'operatore il cliente così via e questa è proprio mancanza di pulizia energetica mancanza di protezione io veramente lavoro tantissimo con operatori olistici o anche con persone che praticano le varie modalità energetiche e mi dicono che appunto durante la loro attività si sentono scaricare si sentono senza forze senza energia magari anche con con pesantezza addosso in quanto la mancanza di protezione porta non solo sposatezza ma può portare anche malumore mal di testa mal di schiena malessere fisico malessere mentale perché appunto c'è una mancanza di protezione la protezione garantisce l'operatore di essere nel suo pieno potere e al ricevente di ricevere solo la luce l'amore la guarigione o il messaggio più appropriato per lui o per lei quindi assolutamente la protezione è alla base di un ottimo lavoro spirituale questo il mio consiglio il consiglio che do a tutti gli operatori olistici volevo informarvi che ho messo a disposizione delle preghiere molto potenti che vi possono aiutare nel vostro lavoro sia come operatori olistici ma anche le persone diciamo che comunemente ricevono trattamenti energetici o che vogliono stare bene si vogliono sentire più nel loro potere più radicati più centrati più equilibrati e protetti queste preghiere sono la preghiera di protezione psichica giornaliera preghiera di protezione della casa degli ambienti fondamentale prima di ogni sessione di guarigione o prima di ogni sessione di canalizzazione lettura angelica processo di liberazione e anche la preghiera di la meditazione di radicamento e di purificazione di chakra quando una persona fa tutto questo lavoro energetico riceverà solo il meglio il meglio dalla luce il meglio dall'amore il meglio dai messaggi e quindi il meglio dal proprio lavoro come operatori olistici bene io spero di essere stata esaustiva io vi saluto un caro saluto a presto ciao